Cambia la tua cucina e fatti un regalo. Questo mese fatti progettare la cucina dai nostri arredatori. In regalo la batteria di pentoli, il tavolo con le quattro sedie, il tristi elettrodomestici fino ad arrivare al top in ceramica o in quarzo. Adesso è il momento per pensare alla nuova cucina o cambiare quella vecchia. Soluzioni all'avanguardia per design e funzionalità saranno a tua disposizione grazie all'esperienza dei nostri arredatori. Ma Florenzi Casa non è solo cucine. Come dice il nostro slogan, noi arrediamo le tue idee, diamo forma alle tue esigenze e ai tuoi desideri, rendendo gli spazi di casa belli, razionali e soprattutto comodi. Una selezione completa di divani e soggiorni ti aspetta nella nostra sede espositiva di Olme di Quarrata, ma anche camere matrimoniali dove riposare soli tranquilli, camerette per diventare grandi coltivando passioni e sogni. Troverai anche un reparto totalmente rinnovato di armadi che, sono sicuro, potranno risolvere ogni problema di spazio. Non può mancare poi un reparto di oggettistica, casalinghi e illuminazione davvero originale per dare alla tua casa quel tocco personale ed unico. Ti aspettiamo a Olme di Quarrata anche la domenica pomeriggio, ricordandoti che questo mese, cambiando la tua cucina, ti fai un bel regalo davvero. Batteria di pentole, tavolo con quattro sedie, tristi retto domestici, fino al top in ceramica o in quarzo. O meglio, te li regala Florenzi Casa. Vi aspetto tutti a Olme di Quarrata. Florenzi Casa, da 50 anni, arreda le tue idee.